Questa mattina in prefettura Catania, sindaci e commissari straordinari della provincia etnea si sono incontrati per operare un approfondimento congiunto connesso alle progettualità in estere nella provincia etnea, finanziate con fondi del PNRR. Da remoto erano collegate la dottoressa Veronica Grembi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la dottoressa Caterina Murania per la Regione Siciliana. A rappresentare il Comune di Edrano il Vice Sindaco Agatino Perni il quale dichiara Siamo lieti di condividere la nostra positiva partecipazione alla cabina di regia sui fondi PNRR destinati agli enti locali svoltasi presso la prefettura di Catania. Esprimiamo grande soddisfazione per i finanziamenti ottenuti per la nostra città, i quali sono stati gestiti in modo efficiente rispettando pienamente i tempi e le normative stabilite dalla comunità europea. E' importante notare che al momento Edrano non presenta criticità relative ai fondi ricevuti, anzi si mostra avanti rispetto ad altre realtà locali. Questo risultato conclude Perni e frutto di un impegno collettivo e di una pianificazione oculata e ci impegniamo a proseguire su questa strada per garantire il massimo utilizzo delle risorse a beneficio della nostra comunità.